Roberto Baggio, se ne va, ottima tecnica Colpisce il pallone, vi arriva il gol E con un vantaggio di 3 gol la partita è quasi chiusa Il movimento è stato perfetto, si è fatto trovare pronto e ha segnato Lo hanno lasciato troppo libero di controllare il pallone e conclude la rete Ma è riuscito a sfruttare al meglio l'impeccata perfetta Gran gol E ha avuto subito un grande impatto sul porto Come è entrato in partita, è stato un cambio veramente azzeccato Il Tolosa